Per quanto riguarda le infrastrutture, i lavori pubblici, l'assessorato ha affidato insieme alle deleghe dell'edilizia sanitaria e ospedaliera, del governo del territorio, delle aree interne e delle politiche della montagna, il cambio di passo è rappresentato dal fatto che per la prima volta, grazie alle competenze del collega Castelli, assessore al bilancio, che ha saputo fare sintesi tra richieste degli esponenti della giunta, è stato reintrodotto un capitolo molto importante. Quello per le progettazioni di opere e di infrastrutture, che mancava da oltre dieci anni. Questo significa non aver avuto in passato una visione complessiva della nostra regione e del suo sviluppo, delle sue potenzialità di sviluppo. Infatti progettare significa poi andare ad intercettare finanziamenti europei e nazionali. Vediamo l'importanza del recovery plan e di questi fondi che dovrebbero arrivare all'Italia, ma vediamo anche la liciosità del governo. Siamo una delle poche nazioni che non è pronta con dei progetti immediatamente canterabili. Anche le marche pagano questo ritardo, un ritardo infrastrutturale che parte da un ritardo della progettazione. Noi cerchiamo di colmare questa lacuna, lo facciamo con 5,7 milioni di euro, un fondo rotativo che toccherà tutte le province marchigiane, che verrà in successive fasi anche integrato, in maniera tale da avere una viabilità infrastrutturale, non solo stradale, ma anche ferroviaria. Anche le ciclabili intermodale e interconnessa. L'altro cambio di passo. Edilizia sanitaria e ospedaliera è considerata come una infrastruttura strategica dei nostri territori. Da qui l'altro cambio di passo. Vogliamo far dialogare costa e dentro terra. Abbiamo detto no agli ospedali unici che uccidevano tutto il territorio e ce l'ha dimostrato la pandemia del 2020 nella prima ondata. L'insufficienza della risposta che ha saputo dare il nostro sistema sanitario ospedaliere è la concentrazione che rappresenta un ulteriore pericolo di diffusione del virus. Allora pensiamo di dire no agli ospedali unici, sì al potenziamento degli ospedali maggiori, quelli che si trovano sulla costa, anche con la costruzione di nuove strutture, ma al contempo realizzare ospedali filtro all'interno. Quelli sciaguratamente chiusi nel 2015 che poi hanno creato l'intasamento delle strutture maggiori. Quindi non intasare le strutture maggiori, prevedere per le strutture maggiori l'alta specializzazione, realizzare delle strutture filtro nell'entroterra. Questo come lo possiamo fare? Aggiungendo risorse come abbiamo fatto con questo bilancio 2021-2023 proprio nell'adeguamento delle strutture sanitarie ospedalieri esistenti, oltre ovviamente agli investimenti per le nuove strutture ospedaliere o per il potenziamento delle strutture maggiori.